guarda sta pure lo sporco dietro al gomito ragazzi avete visto le braccia gli erano il corpo ciao ragazzi ciao a tutti io sono vgfuture questo è mucchio tv e oggi voglio andare a provare la demo di fifa 17 solitamente non non faccio giochi di calcio questa volta però l'ho voluto fare perché hanno hanno usato per fifa 17 un nuovo motore grafico che usano pure su sui vari battlefield sto parlando del motore frostbite e quindi sono veramente curioso di vedere il risultato in campo non gioco a fifa penso da due tre edizioni quindi andiamo a vedere che cosa succede udio xbox madonna allora qua non bisogna perdere assolutamente udio udio è fatto benissimo pure ibrahimo che ci fisica del gioco per le poche nozioni udio che madonna ragazzi madonna ragazzi non sbagliato tasto ok passaggi antoni e valencia è sempre la stessa la voce inglese sempre cioè non so da quanti versioni è sempre la stessa ma ha pregato la palla con un bullo mi ricordo i vecchi fifa sapevo fare delle cose eccezionali si vede che sto proprio arrugginito ok si si ho capito vai bravimovic vai bravimovic madonna ragazzi e che gol qualcosa me lo ricordo dai io che non gioco da 4 5 edizioni non sto giocando praticamente da prima fighissima questa cosa qua ragazzi bellissimo devo dire che primo acchitto non è niente male allora io quest'anno per la verità vorrei prendere uno dei due penso prenderò fifa non non pes perché finalmente su fifa ci sta la la squadra della mia città il benevento e quindi la voglio andare a prendere perché sta in serie b vogliono vedere come sono curioso di vedere come l'hanno fatta la prospettiva ma ha fregato sembra che mi stava tornando la palla che cavolo che cosa ha fatto che cosa diavolo ha fatto dai 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 allora vediamo oddio tiraccio di merda fighissima questa cosa che fa vedere l'allenatore l'espressione non ho visto fifa 16 non me ne sono proprio interessato quindi ovviamente da da persona che vede questo gioco per diciamo la prima volta dopo 5 6 anni probabilmente molte cose non li noterà e mi scuserete per questo però mi sono un poco discostato dai giochi di calcio invece ogni tanto ci voglio tornare perché qualche innovazione dopo tot tempo qualcosina si dovrebbe vedere e in questo caso l'ho fatto proprio perché ci stava il motore frostbite che mi ha incuriosito molto vai 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 madonna guarda come si guarda come si impegnano ma adesso è proprio una squadra di merda quest'altra ok secondo tempo sì sì bello col tacco vai al centro madonna ragazzi più che altro non mi ricordo nessun tipo di tasti giochetti raddoppi mi ricordo il raddoppio di marcatura non mi ricordo come si faceva che lo usavo molto quando giocavo madonna ho premuto un'altra volta il tasto sbagliato ecco il classico io usavo sempre l'alternativo quindi il tiro è questo qui ok allora il tiro è questo passaggio alto passaggio corto perciò non mi trovavo va bene e falla una risata dai stiamo vincendo c'è stato un fallo però non riesco a capire perché non la chiamassi c'è stata la l'icona che si è che si è aperta però sulla sulla destra in alto a destra però non è successo niente l'albitro ha forse dato vantaggio madonna ragazzi su bravo mi piacciono queste cose che prendere poi ci sta pure un'altra modalità è praticamente questa che si chiama il viaggio che è una modalità insomma della storia di questo di questo hunter però questo se ve lo volete andare a vedere ragazzi ve lo scaricate voi questa era più che altro una mia curiosità personale detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video è la prossima volta ciao